Siamo con il prof, il preparatore atletico Francesco Lorè. Prof, una terza tappa che ha consegnato ancora grandi certezze dal punto di vista fisico per la Domus Bet Catani. Sì, stiamo crescendo condizionalmente e fisicamente grazie anche all'impegno dei giocatori che mettono in campo e soprattutto in allenamento. Lavoro molto svolto ai minimi dettagli, nei campi di direzione, nella forza esplosiva, nella rapidità e soprattutto nella gestione del movimento negli spazi stretti che è fondamentale nel beach soccer, visto che lavoriamo e giochiamo su una superficie instabile che è la sabbia. Che tipo di gruppo però hai trovato? Perché tu hai preso la squadra nell'ultimo mese, forse anche 20 giorni, qualcosa meno, però i ragazzi hanno subito trovato o hai trovato predisposizione da parte loro? Diciamo che inizialmente sei sempre un nuovo arrivato, però grazie ai ragazzi abbiamo sposato subito la confidenza e l'amicizia e ho trovato un gruppo che veramente si impegna a 360 gradi in tutti gli allenamenti, anche con queste condizioni climatiche che abbiamo in Sicilia. Il preparatore atletico certe volte deve anche coccolare ma dare anche bastone e carota agli atleti e allora due settimane di lavoro importantissime per arrivare alla finale di Supercoppa e poi alla Final 8. Cosa c'è nella testa e nei piani? Allora ci aspetta un lavoro molto tecnico, soprattutto intanto una gestione dei dispositivi Taupac che è la nanotecnologia che uso negli allenamenti e nella preparazione atletica e poi ci aspetta sicuramente un duro lavoro a livello tecnico, a livello condizionale che poi sarà seguito da uno scarico parziale e anche totale dei giocatori. Come arriveranno secondo te? Come possono arrivare e soprattutto si troveranno meglio su questo tipo di lavoro i giocatori più brevelini o anche quelli che hanno una muscolatura importante o leve lunghe? L'obiettivo mio è farli arrivare al top, alla massima performance soprattutto come dicevo io a livello di rapidità e esplosività e lavorare su tre tempi e mantenere la performance alta fino all'ultimo secondo di partita. Grazie a tutti.